ecco ci mancavano le zanzare adesso vedi finite le mosche arrivano le zanzare allora siamo a 39 va bene Cristian va bene va bene bella Manu non si sono capiti va bene va bene raga ma quindi te lo sei visto Matteo morto per terra eh no sono arrivato a visto che è lì seduto e ho detto che cazzo è successo no probabilmente è morto allora è in pieghe adesso hai fatto male da sole? no è stanco fiato fiato questioni fiato vabbè ci sono 2 no ma 6-7 è da dicembre probabilmente che non gioca più no è uno di più no med invasive abbiamo chiesto di farle giocare martedì al parco dei principi e ho detto no No, lascio rimanere prima Pinerolo. Poi quelli principi devono andare con gli scarsi, lascia andare aiuti. Sì, tanto. Sì, tanto. Quello è bravo. Dai, va bene, dai, Peppe! Come, io guardo! Secondo, soli! No, no, no Non è che non si è fatta a noi, allora. Vabbè, ma non è un arbitro. Vabbè, in due, si sono capiti male. Va bene, dai, va bene. Vedi quello che mi piace di Evan? Minchia, non molla, eh. Sì, noi di testa che abbiamo che salta di testa? Sì, ma sai che qua è abbastanza pericoloso? Che se è bello, chi è questo, quel dieci, bravo. Bravo, bravo Nizzi. Non so, dipendendo da chi trovi. Chi è uscito? Evan. Evan è uscito. Sta tirando il fiato. E qui ci sta. Ma l'Oba dove? L'Oba non ce la faceva prima. C'è tanto per fuori. Ah, entra Filippo, bravo, un figlio. Filippo che è il 9, ok? Il 9, è il 9. E l'Oba? Con la moto. Ah, è l'agola Pettorino. Sì, sì. Vale, l'agola Pettorino. Grazie, grazie. Grazie, grazie. Grazie, 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 grazie. Grazie, 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 grazie. Grazie, 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 grazie. Guardalo, guardalo, stasera chi ti paga? Grazie, grazie, grazie. Grazie, 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 grazie. Grazie, 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 grazie. bravo Samu bravo Samu